Ehi, Celentano, come stai? Io sto bene, sto molto bene, molto benissimo. Ma che fai qua? E che cavolo? Cosa faccio qui? Devo cantare, ma nessuno capisce qua. Ma la mia ragazza, io, gli ho detto, ma tu quando mi ami, lei mi ha detto da morire. Ma io credevo di più. Cavolo, ma io non riesco a capire. Ma tu preghi per lei? Io prego per lei, ma lei non preghi per se stessa. Capito? Si o no? Si o no? O non si sa, si o no, o no, o si, quel problema. Bravo, Celentano. Si che sono bravo, ma io non so perché cosa vuol dire AIDS? Cosa vuol dire AIDS? Non lo so. Abuso intensivo del sedere. Oppure attenti italiani dove scopare, no? Ma io cavolo devo cantare, no? Si, certo, tu sei un cantante. Si, sono un cantante. Eh. Inutile suonare qui, non mi aprirà nessuno, il mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino. Era importante, sai, prestare un po' con noi, non siamo insieme noi. Ma questa è nuova questa canzone? No, è un po' vecchia, no? Si. Ma tu sei bravo, no? Si. Ok, un saluto all'Italia, Celentano. Eh, vi saluto. Qua da Tunisia? Io sono qui in Tunisia, ma cavolo ho mangiato tanta roba piccante, no? Si. Adesso ho la diarrea, no? Cavolo quanto mangiano piccante qua? Eh, lo so, è vero. Va bene. Quando torni in Italia? Eh? Quando torni in Italia? Quando finisce la confusione lì. Si. Ok, ciao, Celentano. Ciao, ciao. Un saluto, ciao. Mi raccomando, niente piccante. No, ciao.